Noi vogliamo crescere passo dopo passo, capisco che è bellissimo sognare ma dobbiamo fare i conti con la realtà. La realtà è che adesso siamo in Serie A, cercheremo di difendere questa Serie A costruendo giorno dopo giorno un processo, un cammino che porterà via comunque del tempo e lo faremo insieme ai nostri tifosi. Anche perché è stata leggerissimamente sofferta. È stata sofferta e meritata, sofferta, un po' fortunata come sempre accade in questi casi, soprattutto in partite secche, ma lo abbiamo, lo siamo meritato e siamo contenti per questa città, per questo pubblico fantastico che dal primo giorno ci ha accolto in maniera straordinaria, ci ha fatto sentire subito a casa e penso che abbiamo ripagato questa fiducia con il lavoro, senza grandi proclami, cercando di lavorare giorno dopo giorno per ottenere questo risultato che è un risultato eccezionale per tutta la città, non scordiamoci.